Scende il tasso di positività, il numero dei ricoverati e da oggi la Sicilia non è più in zona gialla, che non vuol dire, secondo gli esperti liberi tutti, ancora basso il numero dei vaccini rispetto alla media nazionale. Ma le restrizioni sono soprattutto i peroni vaccinati e restano, come con l'accesso ai bar, ai ristoranti e ai trasporti. E' del 13,9% il tasso di positività dell'isola. A Caltanissetta è penultima in quanto a contagi con 220 positivi, dei quali 59 nel capoluogo. Sul fronte ospedaliero 66 sono i ricoverati, dei quali 3 in terapia intensiva. 1.118 i positivi a Caltanissetta, 16 sono ricoverati in malattie infettive. Si contano ancora decessi, due pazienti di Gela nelle ultime 24 ore. Il numero dei guariti superò però quello dei contagiati.